Direttamente da Terracina, una bellissima cassa di polpo verace. Ma come si riconosce se il polpo è verace? Il polpo verace si riconosce dalle due file di ranfe sui tentacoli. Oggi vi faccio vedere come lo preparo affogato. Perché affogato? Perché si cucinerà nella sua stessa acqua. Beh, adesso non ci rimane che assaggiarlo, il nostro polpo di Terracina affogato. Guardate il pane, come si è inzuppato del subietto. Vedete la pelle come è rimasta bella compatta? Si scioglie in bocca. Incredibile. E te? Il polpo lo vuoi continuare a mangiare congelato oppure vuoi venire a provare questa specialità? Tagga nei commenti una persona con cui vuoi venirlo a provare.